27 anni lui, di un anno più giovane lei, fidanzati fino al gennaio dello scorso anno, poi la relazione si trasforma in un'ossessione. È stato arrestato in flagranza di reato per stalking, l'aquilano incensurato, che ha speronato l'automobile dell'ex fidanzata su via Sara Gatta all'Aquila, tamponandola ripetutamente nel bel mezzo del traffico. La squadra volante della questura dell'Aquila, coordinata dal comandante Nicola Di Pasquale, è intervenuta dietro sollecitazioni della sorella della vittima, allertata dalla ragazza in preda al terrore. Una storia commettante che si aggrava quando la 26enne decide di lasciare il fidanzato, da allora una serie insopportabile di atti persecutori, appostamenti, inseguimenti, telefonate notturne, litigi davanti a parenti ed amici, anche sul luogo di lavoro. Vessazioni che hanno raggiunto poi il culmine con i tamponamenti, molestie che la giovane donna aveva già denunciato agli agenti del 113, i quali, grazie alle nuove normative sul reato di stalking, hanno proceduto all'arresto per flagranza di reato. Molte volte purtroppo succede che è solo la vittima che viene qui, si presenta qui in questura per denunciare gli episodi che sono accaduti. In questo caso noi siamo riusciti a intervenire sul posto prontamente e ad impedire che il giovane portasse a termine il suo folle proposito e siamo riusciti a salvare l'incolumità fisica della ragazza. Adesso quindi la normativa prevede per il reato di stalking, dopo le recenti modifiche che ci sono state con le leggi sulla violenza di genere, prevede l'arresto obbligatorio in flagranza di reato. In questo caso siamo stati fortunati che siamo riusciti a intervenire in tempo grazie anche alla ragazza che aveva avvertito la sorella di quello che stava accadendo. La sorella è stata molto brava a sua volta ad avvertire la questura e a fare una specie di ponte radio in modo che le pattuglie potessero prontamente intervenire e porre termine a questa folle corsa.